Seconda giornata di gare a Giardini Naxos con gli internazionali d'Italia EICMA Supermarecross. Dopo il round inaugurale corso il giorno precedente, domenica 28 gennaio, una nuova tappa del campionato che così completa il weekend che segna ufficialmente l'inizio delle gare di motocross in Italia per la stagione 2024. Per questa seconda prova il motoclub Taormina New ha messo al lavoro il track creator Angelo Cinquemani che nel ripristino della pista ha anche lavorato per sistemare gli ostacoli in modo da poter affrontare il giro in senso contrario. Una soluzione già adottata negli scorsi anni che permette in pratica di correre su due piste diverse nello stesso posto. Le manche della Pro in gara 1 sono le 4.50 a presentarsi davanti al primo salto con Bertuccelli primo, poi Delcoco, Caruso e Lentini. Delcoco però non perde tempo, supera subito Bertuccelli e impone il suo ritmo. Il numero 316 presiede ora Caruso, Lentini e Davide Brandini, primo delle MX2 davanti a Roberti. Roberti però finisce a terra e perde molte posizioni, mentre davanti lo show di Matteo Delcoco che danza sulle gobbe con una scioltezza straordinaria. Ha già vinto ieri il campione in carica del Super Mario Cross e sembra intenzionato a ripetersi anche oggi. Bertuccelli spinge forte ma neanche uno specialista della sabbia come lui può nulla contro Delcoco. Lentini è ancora terzo con Brandini, quarto e primo delle MX2. Caruso che è caduto poco fa ora è dietro all'inseguimento con Recchia e Roberti che sta rimontando anche lui dopo la caduta e Antonio Mancuso il vincitore di ieri della MX2. Questo quartetto spinge sempre più forte Caruso, Recchia, Roberti e Mancuso e torna addosso a Lentini e a Brandini. Ecco Lentini in terza posizione attaccato da Caruso che quindi è riuscito a superare Brandini e va alla caccia della terza posizione della MX2. Roberti supera Recchia anche se sono di due classi differenti ma viene insidiato da Antonio Mancuso e quindi è lotta col col coltello tra i denti per la seconda posizione della MX2 tra Roberti e Mancuso mentre Delcoco va a vincere la Manche con Lentini che resiste perché Mancuso cade a due curve dalla fine quindi Bertuccelli secondo terzo Lentini poi Brandini in volata che precede Mancuso e Roberti. Momento romantico al fine di Manche con Mancuso che ancora sporco di sabbia e sudato chiede alla compagna di sposarlo ovviamente ricevendo un sì. Seconda Manche Delcoco, Caruso e Bertuccelli ancora loro i migliori al via e Matteo Delcoco che stavolta non deve superare nessuno è libero di interpretare la pista a suo piacimento fin dalla prima curva. Bertuccelli invece scavalca Caruso che cade poco dopo lasciando così il terzo posto di nuovo a Lentini poi ci sono Mancuso, Zangari e Mirko Dalbosco. Cade anche Lentini e così ora è Mancuso che è terzo nonché primo delle MX2 lo seguono Manco Dalbosco, Zangari e Roberti che si stanno avvicinando intanto uno show di guida di Matteo Delcoco sulle gobbe in velocità riesce ad affrontare questi ostacoli con una naturalezza straordinaria Bertuccelli ancora deve arrendersi al secondo posto ma comunque con grande vantaggio su Mancuso che è terzo e viene attaccato da Roberti per la vittoria della MX2 poco più indietro invece c'è Dalbosco che è terzo delle MX1 si affiancano sui salti della battigia Roberti e Mancuso e Roberti alla fine riesce a passare così diventa lui il primo delle MX2 mentre vediamo anche Zangari e Pivetta che stanno lottando per il terzo posto della classe minore Matteo Delcoco continua a inventare letteralmente salti fino alla bandiera scacchia ed è seconda vittoria di giornata per lui davanti a Bertuccelli che quindi si accontenta di nuovo del secondo posto Bertuccelli che però avvia della super campione che mette in palio anche il trofeo Pirelli-Vincenzo Lombardo fa all shot e quindi cerca di tenersi al comando il vecchio re del Super Mario Cross non vuole abdicare intanto Delcoco continua a inventarsi numeri clamorosi sulle curve sulla zona Pirelli davanti al pubblico e per qualche giro Bertuccelli però riesce a mantenere il comando anche se Delcoco è sempre lì e sembra poter attaccare in qualsiasi momento gli esemplifica la vita in realtà a Bertuccelli che cade e quindi il numero 86 rimane da solo in testa anche a questa gara Bertuccelli prosegue al secondo posto mentre Lentini è terzo di nuovo con Roberti e Brandini che si giocano il primato della MX2 il migliore della 125 è il numero 227 Simone D'Agata che chiude questa gara all'undicesimo posto Fasi finali con Lentini ancora terzo Lombardo va a Delcoco in MX1 Roberti in MX2 e D'Agata in 125 Sì sì molto soddisfatti le tre gare sono andate veramente benissimo le ho vinte tutte e tre e ora ci prepariamo per le altre due a Rosalina e a Roma vediamo come va Senti il tuo allenamento ci ha spiegato anche D'Agata che insomma lo segui ha detto che gli hai già insegnato alcune cose cioè tu come fai ad andare così forte sulla sabbia? Come ti alleni? Come svolgi la preparazione? Ovviamente tanto allenamento ma soprattutto girare sempre nella sabbia e avere costanza nell'allenamento non alternare terreni duri con quelli morbidi se si prepari questo campionato bisogna fare sempre sabbia e non mischiare un po' le cose Sì ieri qualche errore di troppo non mi ha permesso di vincere però oggi devo dire che è stata una giornata quasi perfetta e voglio ringraziare per questo tutto il team Pardi la famiglia e mio fratello che mi allina Quasi perfetta perché? Perché la prima mancina l'ho vinta è stato arrivato secondo per poco Va bene complimenti quindi a questo punto ti trovi in testa al campionato immagino che l'obiettivo diventa il titolo E ovviamente l'obiettivo è vincere il campionato ce la metteremo tutta Classe 125 Prima manche sono Dagata, De Luca e Giardina i tre migliori al via con Simone Dagata che dopo aver dominato la giornata di ieri vuole assolutamente ripetersi e infatti si rimette a fare l'andatura Al secondo posto si porta Murgut con De Luca terzo e Mosca quarto ma tra poco sarà costretto al ritiro neanche Manche senza sussulti per le prime due posizioni neanche un brivido per Simone Dagata che allunga con Murgut che è secondo e mantiene la posizione con buon vantaggio sul gruppo cade invece De Luca che occupava la terza posizione viene superato da Giardina, Piazza, Mosca e i fratelli Sardi Mattia e Samuele Piredda il più bivace è proprio Samuele Piredda numero 28 ora all'attacco di Piazza per il terzo posto operazione che riesce quindi il giovane sardo Piredda guadagna un posto sul podio Simone Dagata invece taglia il traguardo in monoruota con grande vantaggio su tutti gli inseguitori seconda Manche e c'è grande partenza per il numero 80 l'ungherese Peter Varga che brucia Dagata, Pocchiari e il resto del gruppo dove scorgiamo anche Murgut, Piredda, Mosca e De Luca Varga resiste in testa per un giro poi deve cedere allo strapotere di Dagata mentre Murgut conquista la terza posizione Varga perde terreno, Murgut cade così è Piredda secondo mentre vediamo che Dagata ha già preso il largo in testa alla gara e dicevamo Murgut cade quindi ora Piredda secondo, Mosca terzo ed eccolo Tommaso Murgut che si rilancia in rimonta alla ricerca della seconda posizione supera Mosca e poi si fionda su Piredda che tiene botta in realtà per qualche minuto li vediamo lottare qui nel tratto lento della pista di Giardini Nazzos poi però Murgut si infila all'interno sulle Wave e si riporta al secondo posto tutto tranquillo invece per Simone Dagata là davanti con Murgut e Piredda che continuano la loro lotta fino praticamente all'ultimo giro li vediamo lanciarsi sui salti della battigia ma finisce così Simone Dagata fa un'altra doppietta poi vince anche la super campione e sul podio precede Murgut e Samuele Piredda sono stati veramente due giornate bellissime ho vinto tutte e due le giornate la pista era veramente stupenda la super campioni è stata veramente una bella gara molto stanganda infatti il ritmo era molto alto anzi non mi aspettavo di raggiungere questo obiettivo senti abbiamo visto hai detto ieri che insomma il tuo allenatore è del coco alcune movenze già cominciano a ricordare quelle del maestro come salti, come ti muovi sulle gobbe sì sì, Matteo mi sta trasmettendo la sua tecnica il suo modo di allenarsi e lo ringrazio nuovamente ringrazio la famiglia del coco ringrazio veramente a tutti soprattutto la mia famiglia ringrazio anche i miei sponsor la concessione Every One e passiamo alle categorie Ama quelle dei piloti ovviamente amatori con Michael Lombardo il migliore al via della MX1 nella prima manche davanti a Panarello Esposito e Milani Lombardo in testa con Antonio Caruso che ora è secondo mentre Milani ha perso terreno per una piccola scivolata ma è di nuovo all'attacco cade anche Lombardo e quindi adesso è Caruso il leader con Milani che però lo segue a ruota il romano numero 109 passa in testa e allunga mentre ora Caruso deve fare attenzione al ritorno di Michael Lombardo che non ha abbandonato del tutto l'idea di conquistare il secondo posto quindi Caruso numero 419 tallonato da Lombardo numero 12 ma le cose non cambiano più con Milani che vince questa manche davanti quindi a Caruso e a Lombardo seconda manche ed è ancora una super partenza di Lombardo che alla prima strettoia precede Milani e Panarello Milani però stavolta non perde tempo attacca subito e si porta al comando Lombardo secondo poi Esposito, Caruso e Panarello in quinta posizione di nuovo gara solitaria per Luca Milani che del resto è l'unico dei piloti al via con esperienze importanti a livello nazionale anche se ora ha un po' mollato il motocross per dedicarsi all'enduro di nuovo Lombardo, Caruso ed Esposito che restano a contendersi la piazza d'onore e così mentre Milani taglia il traguardo da dominatore Caruso in volata proprio in volata con tanto di rischio finale proprio sull'ultima gobba riesce a bruciare Lombardo podio di giornata con Luca Milani primo Caruso secondo e Lombardo terzo ancora Yamama questa volta MX2 nella prima manche Prago scatta in testa davanti a Gonnelli ma poco dopo cade e al termine del primo giro c'è Messina al comando, Gonnelli secondo poi Bianchi e Sardisco Messina però cade mentre Sardisco rimonta alla grande e si ritrova al comando Gonnelli sempre secondo con Messina che si rilancia all'attacco dalla terza posizione stavolta è il turno di Sardisco di sbagliare quindi Messina ritorna in testa ma il suo compagno di team che ieri aveva vinto la giornata non molla e recupera lo svantaggio col passare dei giri i due piloti arrivano sulla chicane della battigia Messina fa spegnere la moto e quindi Sardisco si trova al campo libero per passare in testa e allungare nuovamente per il terzo posto invece lottano Bianchi e Gonnelli duello serrato con Bianchi che però riesce a tenere a bada il numero 193 complice anche qualche problema di quest'ultimo lo vediamo segnalare qualcosa ai suoi uomini in pit lane all'arrivo Sardisco numero 241 è primo davanti quindi a Messina e Bianchi seconda mance ed è di nuovo Prago davanti a tutti con Bianchi Messina Sardisco e Mirko Milani all'inseguimento Messina però oggi non è in giornata cade più volte mentre Sardisco è perfetto e si invola al comando da solo per la seconda posizione lottano Gonnelli Oppedisano e Bianchi ed è Oppedisano ad avere la meglio con una prestazione molto grintosa il numero 238 conquista la piazza d'onore lo vediamo che duella tra la moto e le gobbe mentre Gonnelli terzo è alle sue spalle bandiera scacchi per Sardisco che vince quindi l'assoluta con una doppietta davanti proprio a Oppedisano e Gonnelli e Sardisco che rafforza il suo primato in classifica Mini 85 in gara 1 Cristian Amali precede Guzzardi e il romeno Sciocche poi vediamo il resto del gruppo anche qui numerosissimo veramente quello dei ragazzi della 85 Amali guadagna terreno fa il suo ritmo mentre alle sue spalle Guzzardi e Sciocche non se le mandano a dire per cercare di avere uno ragione dell'altro poi però Guzzardi finisce a terra mentre Sciocche continua a spingere e si riavvicina sensibilmente a Cristian Amali li vediamo ora sul tratto di Wave nella parte vicino alla pit lane tra gli striscioni Famila, UFO Kikko, Motocross Marketing intanto al terzo posto è salito Liam Pickler il pilota altoatesino tallonato da Beccari che poi effettivamente riuscirà a prendere la terza posizione nel finale Amali riguadagna terreno quindi resta in testa e va a vincere la manche davanti a Sciocche e Beccari Gara 2 ancora dal cancelletto pieno Guzzardi e Sciocche sono appaiati al via ma Guzzardi non molla il gas e la spunta sul primo salto Sciocche però è più veloce si porta in testa con Cristian Amali che si mette subito però al suo inseguimento per non farlo scappare via è una bella battaglia tra i due mentre Guzzardi rimane col suo ritmo gestisce la terza posizione senza commettere errori Marc Sciocche il pilota rumeno riesce a guadagnare terreno su Amali e all'ultimo giro sembra avere la vittoria in pugno ma inciampa clamorosamente in una curva e ancora più clamorosamente viene colpito da un doppiato subito dietro di lui le due moto si incastrano e Sciocche perde molto tempo a ripartire quando lo rifà Amali è già passato e quindi il numero 777 il marchigiano si ritrova la vittoria su un piatto d'argento sale sul gradino più alto del podio della giornata davanti proprio a Sciocche Beccari Guzzardi e Ferraro e anche oggi come già è successo ieri i Mini 65 corrono la loro mancia questo esperimento questa grande novità del Super Mare Cross con Anthony Montoneri che detta il suo ritmo con il numero 295 dietro di lui c'è una bella lotta tra i 530 Furnari e il numero 13 Caggiula con Caggiula che riesce a passare sembra in grado di prendere la seconda posizione ma poco dopo è costretto a rallentare per problemi alla moto e quindi restituisce il secondo posto a Furnari in generale comunque i piccoli piloti se la cavano molto bene in questa prima uscita sulla sabbia del Super Mare Cross una prova superata alla grande sia per la formula organizzativa che per la risposta dei piloti al traguardo Montoneri va a vincere davanti a Furnari Caggiula D'Angelo e Vasta fuochi d'artificio anche qui un classico di Giardini Naxos e un bel tributo finale ad Angelo Guerri lo storico direttore di gara del Super Mare Cross che conclude qui forse nella pista a cui è più affezionato le sue direzioni nel campionato su sabbia gli internazionali d'Italia EICMA Super Mare Cross invece tornano il 17 e 18 febbraio a Rosolina in provincia di Rovigo con il terzo e quarto round di Rovigo per grazie a tutti a tutti a tutti di Rovigo a a Grazie a tutti